spogliando il giornale fatti e commenti a cura di rvs abbiamo il piacere di parlare con luigi sandri vaticanista autore anche di saggi di libri storici sulla storia della chiesa buongiorno dottor sandri grazie per essere nostra compagnia innanzitutto buongiorno a voi in questo periodo si sta svolgendo un sinodo importante per la chiesa cattolica il sinodo per l'amazonia come viene generalmente definito naturalmente abbiamo letto sui giornali proposte di tipo chiamiamolo progressiste altri molto conservatrici dunque le anime della chiesa che si confrontano e forse anche si scontrano su quello che deve essere l'identità della chiesa nel prossimo futuro dottor sandri come vede appunto lo sviluppo di questo sinodo da che parte sta andando la chiesa diciamo questo sinodo che è iniziato il 6 ottobre e termina il 27 cioè tra pochi giorni appunto come tema la massonia cioè in esso sono presenti soprattutto vescovi della massonia e tutti sanno che la massonia è proprietà di 9 paesi ma la parte del leone la fa il brasile poi c'è il peru ecuador e la colombia e bene in questo sinodo riassumendo ci sono due aspetti principali uno diciamo così sociale e uno ecclesiale l'aspetto sociale che da parte di tutti questi vescovi si è elevata una voce unanime per gridare al mondo che l'amazonia deve essere difesa e conservata che i popoli originali cioè gli indigeni che la vivono devono essere difesi perché spesso sono oggetto di prepotenze di violenze da parte di multinazionali che vanno lì e bruciano le foreste oppure per cercare nelle miniere insomma rovinano il territorio dove loro vivono da secoli se lì si inquinano i fiumi si tagliano le foreste e si taglia la loro vita quindi su questo c'è l'unanimità e il papa francesco più volte si è espresso a favore di un grande movimento di difesa dei popoli indigeni e soprattutto in tutto il mondo ma in questo caso dell'amazonia che è il polmone del mondo secondo molti dal punto di vista ecclesiale si pongono diversi problemi il più così evidente è la questione dei sacerdoti e dei ministeri perché perché in questo vastissimo territorio si ricordi che l'amazonia è grande 7,8 milioni di chilometri quadrati per capire l'Italia 300 mila quindi è una vastità enorme è un continente nel continente molti di questi piccoli villaggi sparsi nella foresta sono raggiungibili dai missionari cattolici ma anche da altre chiese raramente spesso il prete arriva una volta all'anno o al massimo due quindi questi poveri villaggi così si devono arrangiare nei mesi in cui rimangono soli i villaggi dove c'è gente cattolica perché non dappertutto ci sono cattolici ci sono anche esponenti di chiese per esempio neopentecostali che fanno questa gente questi fedeli quando manca il prete questo tipo del discorso è chiaro che queste comunità sono allo sbando anche se la soprattutto donne o suore cattoliche esternose o donne indigene cercano di tenere viva la fede e di conservare una certa vita cristiana tutti insieme la domanda è questa chiesa resisterà no che non resisterà dicono molti vescovi bisogna trovare una soluzione quale soluzione ecco da alcune parti ma non da tutte è venuta l'ipotesi di ordinare preti uomini già sposati cioè indios anziani specifica già sposati che hanno una famiglia stabile che sono riconosciuti nella comunità locale come persone serie generose piene di fede di generosità di buonsenso vengono consacrati preti e così avremo delle comunità che hanno il loro presbitero altri però nello stesso sinodo mal di fuori dicono che se si fa questo si mina a morte il celibato cattolico come tutti sanno nella chiesa latina non nelle chiese cattoliche orientali dove per lo più c'è il clero usorato cioè sposato ma nella chiesa latina che è il 95 per cento della chiesa cattolica romana i preti sono cervi cioè un seminarista se non accetta il celibato non viene ordinato quindi tu sei ordinato prete e devi rimanere cervo poi dopo non tutti lo fanno di fatto però questa è la norma se questa è l'obiezione se si dice bene dal primo dicembre del prossimo anno fra due anni quando sarà si cominciano a ordinare preti uomini già sposati e certo lo sanno tutti che in qualche paese dell'africa ma perfino nella baviera perfino in germania perfino in canada qualche vescovo dirà cari signori manchino sacerdoti sono pochissimi i seminari sono vuoti perché anche io non posso ordinare preti uomini già sposati tanto più che nel nord del mondo ci sono moltissimi ragazzi giovani che sono ben accolti dalla comunità che si danno da fare perché no e quindi non in un giorno ma diciamo in qualche decennio il celibato sacerdotale obbligatorio come così oggi lo conosciamo sarebbe colpito a morte per questa ragione questi dicono no non bisogna fare un altro sinodo che abbia come tema esattamente questo l'ordinazione di uomini sposati è un modo per prendere tempo ma anche per dire una verità non è pensabile che questa eccezione così come si vuole dire per l'amazzonia non sia esportata ed esportabile è chiaro che finirebbe anche in giappone in sud africa in argentina perfino e negli stati uniti quindi quindi bisognerà aspettare la fine di questa settimana per vedere che cosa decide il sinodo il sinodo bisogna sapere è consultivo non è deliberativo quindi il sinodo può dire noi raccomandiamo al papa di fare questo e questo poi francesco deciderà che cosa accoggere e che cosa non accoggere ma naturalmente se la proposta dei vi riprobati così si chiamano in latino questi preti sposati fosse accolta dalla gran maggioranza dei sinodali il papa l'accoglierà se invece su questo punto il sinodo si spaccasse non sappiamo che cosa farà poi del resto nella storia ci sono stati anche dei periodi diversi in cui non c'era per forza il celibato nell'arco della storia anche della chiesa ma certo il celibato questo è una cosa ovvia ma bisogna ripetere il celibato non è stato deciso da gesù tant'è vero che lo dice l'angelo gesù guarì la suocera di pietro che per i cattolici molti discutono ma per i cattolici pietro fu il primo papa dunque il primo papa aveva la suocera quindi il primo papa era sposato questo per dire che questa cosa nella testa di gesù non esisteva altra cosa è il carisma del celibato che uno sceglie questa vita e questa via ma legare in modo inscindibile se si adossi il celibato è una cosa discussa e discutibile tant'è vero che le chiese ortodosse non da sempre ma diciamo più o meno al quinto secolo hanno il clero uxorato chi vuole sposarsi prima dell'ordinazione si sposa dopo non lo può più quindi in oriente chiese orientali in russia in romania in bulgaria la maggior parte dei parroci sono presi sposati e le stesse chiese cattoliche orientali come per esempio i maroniti i melchiti che sono legati a roma hanno il clero sposato quindi non è affatto vero che nella chiesa cattolica la legge del celibato sia per tutti e ovunque e per alcuni anche se questi alcuni sono la maggioranza d'altra parte la chiesa romana come tutte le altre hanno sempre cercato di rispondere ai problemi dei paesi dove questa chiesa vuole evangelizzare vuole svilupparsi ora proprio un vescovo tedesco ma per tantissimi anni che è stato in amazzone è una diocese più grande dell'italia con pochissimi preti più volte ha detto che gli indigeni non capiscono il senso del celibato perché non lo capiscono? mica perché sono migliori o peggiori degli occidentali perché nella loro cosmologia, cosmogonia vedono la vita, la vita e quindi la stramissione della vita è come il centro di quello che può fare nella sua vita un uomo e che può fare una donna quindi non avere figli è una cosa stranissima per loro quando lì arrivava il prete cattolico gli domandavano le tue moglie dov'è? e quindi nella loro mentalità e forse hanno qualche buona ragione per dirlo che senso ha uno che non cerca di trasmettere la vita? questo lo pensa, a me sembra una cosa bellissima altri possono dire che non è tanto bella però perché noi occidentali potremmo imporre a loro la nostra visione del mondo anche della chiesa e quindi per questa ragione a loro va benissimo che ci sia il prete esposato non solo, e la donna? questo è l'altro punto debole del sindaco e spiace, spiace tantissimo che si continui a fare questa pratica e cioè che un sinodo come questo che ha 184, disolite, padri, cioè tutti maschi però ci sono suore, ci sono donne, ci sono professoresse, esperte, sociose oltre a uomini naturalmente che danno il loro contributo ma alla fine non votano è mai possibile che nel terzo millennio ancora solo i maschi abbiano il potere una cosa non sta in piedi da nessuna parte quindi apprendo ai viri sposati alla fine si dovrà arrivare a ridiscutere alla radice la visione cattolica dei ministeri che se si pensano riservati ai maschi non c'è soluzione se si pensano invece dei servizi non dei mediatori tra il cielo e la terra ma dei servitori della comunità non si vede perché non possono essere uomini e donne celibi e sposati Senta, proprio nei giorni scorsi credo che il cardinale Müller ha affermato che questa materia non è di competenza del sinodo sostanzialmente perché fa parte dei dogmi irrinunciabili non negoziabili non solo dell'identità ma proprio della Chiesa quindi ecco mi sembra di capire che lei la pensa molto diversamente ma io ho letto quel che ha scritto il cardinale Müller poi non so se l'hanno riferito esattamente le sue parole ma se ha detto che il celibato appartiene al dogma dice una sciocchezza storica e teologica non appartiene assolutamente al dogma appartiene a una disciplina che si può confermare o anche mutare ma il punto fondamentale dove Müller ha ragione secondo me ma la mia posizione è molto minoritaria è che un sinodo consultivo non può affrontare e risolve problemi così globali e complessi che alla fine come dire rendono una questione di Chiesa molto importante non diciamo essenziale ma molto molto importante nella vita concreta allora io ritengo nello scritto e più che dirlo non posso che per toccare certi nodi il nodo dogmatico in questo ragione Müller è che sono i ministeri punto interrogativo il sacerdozio così come lo pensiamo noi cattolici è stato istituito da Gesù o è stata una costruzione storica che ha cercato di inverare le parole di Gesù ma che potrebbe essere ridiscussa perciò io sono d'accordissimo con Müller che ci voglia un concilio generale non ecumenico perché riguarda solo la Chiesa romana e non tutte le Chiese la Chiesa della Riforma la Chiesa dell'Ortodossia un concilio generale della Chiesa romana che finalmente affronti direttamente frontalmente coraggiosamente il problema dei ministeri se si dice come ha scritto Papa Voitila imponendolo nel 1994 che Cristo ha deciso per tutti i secoli che solo uomini possono essere sacerdoti se questa è la verità la questione è chiusa ma è chiusa anche l'Amazzonia se invece si dice come secondo me si dovrebbe dire come io lo dico perché molti teologi e molte teologhe cattoliche lo dicono va questa questione ridiscussa allora se si torna a discutere di ministeri che è altra cosa dal sacerdotio io penso che bisogna arrivare a dire in un concilio generale della Chiesa romana che uomini e donne hanno l'uguale diritto e possibilità caso per caso perché uno deve avere anche la vocazione per fare questo lavoro e questo impegno eclesiale hanno la possibilità di essere appunto servitori ministri di questa comunità che possono celebrare l'Eucalistia e confessare le persone se non si fa in un concilio si rischia lo sismo nella Chiesa romana come alcuni dicono in questo hanno ragione dicendo che ci vuole questo strumento hanno torto quando pensano che toccando il celibato si tocchi l'essenza della Chiesa non è vero ecco ma a questo punto del sinodo ci sono delle tendenze ha sentito un po' che aria tira in questo senso si ho letto tutte le pensate nel sinodo per spiegare un po' la gente ci sono delle discussioni tutti insieme si alza uno quattro minuti danno per parlare dice le sue cose poi ci sono una dozzina in latino si chiamano circoli minores cioè sono dei gruppi linguistici cioè ci sono 4-5 spagnoli 2-3 portoghesi 1 inglese cioè così ognuno parla la sua lingua è molto più facile no? ebbene in questi circoli minores la maggior parte di questi circoli minores perché la settimana scorsa hanno pubblicato le loro conclusioni sono a favore sono a favore dei vi riprobati però alcuni sono molto incerti e dubbiosi quindi è difficile allo stato delle cose dire come andrà a finire aspettiamo qualche giorno però tra qualche giorno si vota ci sarà una proposizione dice il sinodo propone al Santo Padre che in certi casi molto bene dell'Amazzonia quindi la ricontattiamo tra qualche giorno Luigi Sandri senta forse proprio un'ultima battuta direi esce insomma parallelamente al sinodo un libro di Gianluigi Nuzzi dal titolo Giudizio Universale dove si parla del cosiddetto Sacro Crack così titola Repubblica un articolo di Ezio Mauro bilanci in rosso sul tavolo del Papa l'inferno si chiama default non so se la pubblicazione proprio mentre c'è il sinodo in corso ha a che fare con questa con queste polemiche lei che ne pensa insomma no io penso che è casuale perché questa storia di cui parla questo libro è accaduta per quanto sappiamo come opinione pubblica tre mesi fa no e quindi se non fosse accaduta il libro non c'era no però viene adesso certo hanno fatto in modo di fare in fretta perché sia anche vescovi che non sono italiani ma che poi tornano nei vari continenti sentano queste cose che magari laggiù non lo vengono a sapere è una cosa distinta naturalmente certo però naturalmente anche questa pone dei problemi enormi no perché tutta la storia della Chiesa Cattolica e di tutte le Chiese se posso dire dimostra che il rapporto tra la Chiesa e il denaro è sempre complesso perché giustamente le Chiese se raccolgono dei soldi devono pur vivere quelli che servono nella Chiesa è giusto che sia così però quando i soldi sono tanti e invece di dare ai poveri si fanno investimenti a Londra come è successo in questo caso questa è l'accusa io non lo so è chiaro che nascono dei problemi è molto difficile per il Papa per qualsiasi Papa affrontare questo problema in modo realistico e come dire possibilmente attuabile perché se si fanno grandi enunciati che rimangono nei cieli e dopo la vita continua come prima non va bene quindi questa è una croce che a Francesco non è certo colpa sua lui se la trova sul tavolo quindi pone problemi veri e gravi però io non conosco le persone non sono i fatti e non mi pronuncio ma parlando in generale il problema del rapporto di cui già parlava Gesù tra Dio e Mammona cioè tra il Signore e l'economia e i soldi ha sempre pesato sulle chiese e tuttora pesa ecco lui lui ci sanno poi chiudiamo davvero qui però il rischio è che anche lo Stato Vaticano come tantissimi stati in questo momento sia anche in grossa difficoltà per poter mantenere tutta l'organizzazione lì ci sono molti voci è proprio un bilancio sono gli stipendi da pagare che è un rischio qui si apre un problema enorme cioè lo Stato della città del Vaticano che è stato creato come tutti sanno dai patti lateranensi del 1929 al potere in Italia stava Mussolini di là Pio XI e anche questo un fatto derivato dalla storia la soluzione della questione romana eccetera può per sempre il vescovo di Roma perché questo il Papa è vescovo di Roma essere al tempo stesso avere al tempo stesso il potere legislativo esecutivo e giudiziare perché così è questo stride con la mentalità moderna e quindi chissà forse bisogna ripensare tutto è difficile dire come ma certo la questione del Papato al di là del suo aspetto teologico o se si vuole dogmatico dal punto di vista cattolico ha un problema economico e geopolitico importante perché per esempio la Santa Sede che è distinta dalla città del Vaticano perché potrebbe non esistere il Vaticano ma esiste la Santa Sede perché la Santa Sede esistiva anche quando non c'era lo Stato del Vaticano ma insomma ha rapporti diplomatici con più di 100 paesi del mondo cercano questi vescovi in unzi di favorire la pace di lavorare per la riconciliazione quindi è un grandissimo marchingenio complesso in parte ereditato dalla storia in parte legato a alcune tradizioni discutibili che deve come dire muoversi in un mondo totalmente cambiato e che cambia a velocità estrema quindi è difficile anche per la città del Vaticano adeguarsi al ritmo moderno e quindi il Papa che è re della città del Vaticano che è il servo dei servi di Dio nelle chiese insomma è una questione talmente complessa che non si può risolvere in due minuti ma i fatti che accadono dicono che il problema esiste e va affrontato allora noi ringraziamo davvero Luigi Sandri teologo cattolico vaticanista storico per questa analisi a proposito del sinodo per l'Amazzonia che si conclude il 27 ottobre noi contiamo sicuramente di tornare sull'argomento e abbiamo preso spunto anche per insomma fare qualche altro riferimento al volume di Gianluigi Nuzzi giudizio universale che insomma esce proprio nelle librerie in questi giorni grazie davvero per essere stato con noi a risentirci grazie a voi abbiamo trasmesso sfogliando il giornale fatti e commenti a cura di RWS